Dittagrotta 1873, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 150 anni. Io sono la sesta generazione, abbiamo due punti vendita, uno edilizia tradizionale con tutto ciò che serve naturalmente per un cantiere dalle fondazioni al tetto, con tutto ciò che sono le finiture e la seconda invece abbiamo diversificato aprendo un settore sul legno, sul green. Con la Woodbuilding SRL abbiamo fatto una società a sé stante, facciamo progettazione, realizzazione e montaggio del prodotto finito. In sei giorni siamo riusciti a montare 300 metri quadrati di casa su due piani, in cantiere non eravamo nell'acqua, nell'energia elettrica, non abbiamo consumato nulla e non abbiamo fatto residui. Noi crediamo moltissimo nel servizio, servizio inteso come per esempio trasporti, tutto ciò che è logistica e trasporti sono fondamentali. Abbiamo vari camion con la possibilità di trasporto al piano, di facchinaggio in qualsiasi luogo, abbiamo camion quattro rodemotrici piccolini che arrivano in qualsiasi parte. Oltre questo puntiamo molto su ciò che è il noleggio di utensili, dai piccoli utensili, trapani o frullini o cose piccole, piuttosto che invece macchine per l'intonacatura del materiale, piuttosto che tutti quegli utensili che servono per dare il prodotto finito in un cantiere. Abbiamo dei rapporti con i talcementi, ora Heidelberg Materials, da decenni e decenni. Ultimamente si è molto rinforzato questo rapporto perché noi teniamo alle talcementi Heidelberg Materials e loro evidentemente ci considerano un buon cliente. Quello che apprezzo molto in Heidelberg Materials sicuramente sono tutte le persone che lavorano e sono disponibilissime, molto presenti e professionalmente estremamente preparate. Lo sguardo di Heidelberg Materials all'ecosostenibilità e il servizio sono molto rapidi, veloci e naturalmente anche la qualità del prodotto, insomma, perché quando parliamo di cemento è fondamentale che abbia delle caratteristiche serie e che siano rispettate.